Torna a colpire la banda del Bancomat. Questa volta sono state presi di mira le poste a Santa Croce di Magliano, dove nella notte è stato fatto saltare in aria il postamat. I banditi hanno piazzato l'esplosivo, probabilmente Tritolo, nella fessura da dove escono le banconote. L'esplosione è stata molto forte e la parte anteriore del Bancomat è stata sventrata, provocando grossi danni anche agli uffici. I malviventi hanno raggiunto la cassa con i soldi, 25 mila euro, dalle prime stime e sono fuggiti. Il colpo poco prima delle tre, l'esplosione ha svegliato diversi cittadini. Qualcuno si è affacciato e ha visto allontanarsi a forte velocità una Mercedes bianca. La provinciale 40, probabilmente la via di fuga. Indagano i carabinieri di Larino che hanno effettuato i primi rilievi. Le telecamere di videosorveglianza ci sono e si cerca di capire se il sistema era attivo e se dalle immagini si può capire di più. Si segue la pista del Foggiano, da dove arrivano bande organizzate specializzate negli assalti e Bancomat con esplosivo. Il modus operandi è sempre lo stesso con i ladri che entrano in azione prima dei festivi, quando i Bancomat vengono caricati con maggiori somme di denaro. Solo due settimane fa il colpo notturno alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna di via 4 Novembre a Campobasso, dove i malviventi avevano sfondato la porta d'ingresso con l'auto e poi fatto esplodere il Bancomat.